...da uno o più le cose, voi anche sui comunitari del Stato, legate le responsabilità, o comportate anche un'unità di Stato. ...i un'unità di ricordazione, va per le posizioni aiutate con i senatori nazionali, le organizzazioni partite, il sistema interno, e dite anche due registrati per i costi. ...e un'unità di attività, ma se ne ha trovato un'unità di attività, ho preso quello delle politologie, però non è un'unità di un'unità. ...e un'unità di okumana, voi c'lifre inzire il lustro, vabbamo, basta un'unità di attività. ...io anche dove non riuscire la canta, ... Grazie. Grazie.